Musica Referendum e regole più stringenti per la costruzione della moschea Lo chiede un progetto di legge in regione firmato da Lega, Fratelli d'Italia e Nuovo Centrodestra Forza Italia non ha firmato e il Partito Democratico comunque dice di no Le case popolari di Milano non saranno più gestite da Aler ma da metropolitana milanese Domani il via libera anche se i sindacati si lamentano di non essere stati consultati Iniziati oggi i lavori per il padiglione cinese di Expo 2015 Sono attesi dalla terra del dragone più di un milione di visitatori E il sito sarà secondo solo a quello della Germania per dimensioni Anche il sindaco Pisapia ha garantito che pagherà la multa relativa ai manifesti abusivi Durante la campagna elettorale del 2011 La cifra che dovrà pagare il primo cittadino di Milano intorno al mezzo milione di euro Musica Buonasera e buonasera anche dalla TGN Benvenuti a questa edizione Continua l'annosa vicenda della Moschea Dopo infatti la proposta del sindaco Pisapia di istituire un bando per il mese di settembre Ecco arrivare un progetto di legge in consiglio regionale Lombardo Firmato dalla Lega, dai Fratelli d'Italia e dal nuovo centrodestra Che chiede regole urbanistiche più stringenti e soprattutto un referendum da proporre ai cittadini Ma forse Italia non ci sta quindi il centrodestra in qualche modo si divide E comunque il partito democratico dice di no Sentiamo Massimo Scharenzi La Lega stringe sulle moschee Il carroccio ha presentato ufficialmente un progetto di legge in regione Lombardia Per chiedere restrizioni sulle regole urbanistiche E il vincolo di un referendum consultivo Per autorizzare la costruzione di nuovi edifici di culto Di religioni differenti da quella cattolica A spiegarlo è stato il capogruppo leghista in regione Lombardia Massimiliano Romeo Oggi durante una conferenza stampa Prima di realizzare nuove moschee Oggi come oggi con quello che sta succedendo a livello internazionale Bisogna pensarci su più di una volta Centrodestra ha spaccato sul progetto leghista Forza Italia infatti non ha firmato la proposta Nel documento presentato dal carroccio Oltre al referendum si chiede a chi vuole aprire un luogo di culto Di sostenere le spese per i collegamenti E di rispettare distanze adeguate tra le aree o gli edifici Da destinare alle diverse confessioni religiose Per motivi di tutela sanitaria e di ordine pubblico Tra le richieste c'è anche quella di prevedere A uno spazio di parcheggio pubblico collegato con il luogo di culto Forti critiche al progetto da parte del Partito Democratico Il responsabile cultura del PD metropolitano milanese Daniele Nahum parla di proposta incostituzionale E' un progetto di legge scandaloso Perché non si può limitare la libertà di religione Non si possono mettere dei criteri discriminatori Nei confronti di altri credi religiosi Perché la nostra Costituzione parla chiaro Dunque io credo che come Partito Democratico E come persone appunto democratiche Dobbiamo assolutamente dire di no a un progetto di questo genere E' arrivato comunque nel pomeriggio Il documento di Forza Italia Firmato dal capogruppo Pedrazzini e da Giulio Gallera Servono regole certe, dice Forza Italia Sulla costruzione di luoghi di culto In particolare moschee Però Forza Italia considera la proposta della Lega Nord Di prevedere dei referendum tra i cittadini Del tutto inadeguata Forza Italia annuncia una mozione al Pirellone Che chiede tra l'altro ai sindaci Di vietare la predicazione in arabo nei luoghi pubblici E di intensificare i controlli della polizia locale Nei luoghi di ritrovo degli immigrati Adesso la cronaca E' stato disposto il processo con rito immediato Nei confronti di Tamara Taverna La direttrice di un asilo nido nell'Internand milanese Finita agli arresti domiciliari lo scorso 10 maggio Con l'accusa di maltrattamenti su bambini Di età compresa tra 1 e 3 anni Che sarebbero stati picchiati e insultati dalla donna Tutto questo dopo che era stato diffuso un filmato dai carabinieri Eccolo qui In cui si vedono proprio i maltrattamenti della donna Lo ha deciso il GIP di Milano E ha fissato il dibattimento per il prossimo 24 di ottobre Le indagini dei carabinieri del NAS di Milano Come vedete dal filmato Hanno documentato che la struttura privata Che ospitava una decina di bambini Ed era diretta proprio da questa maestra Era un vero e proprio asilo degli orrori La direttrice di 40 anni sempre secondo l'accusa Chiudeva la bocca dei bambini con il nastro adesivo E li costringeva a rimangiare quello che avevano ricurgitato o sputato Cambiamo argomento Parliamo di case popolari Perché il comune di Milano si appresta a trasferire la gestione delle proprie case Da Alera metropolitana milanese Domani i partiti di maggioranza di Palazzo Marino Dovrebbero dare il via libera Ma protesta il sindacato Anzi i sindacati perché si lamentano Dicono che non sono stati consultati Sentiamo Alberto Carreras La gestione delle 28.000 case popolari del comune di Milano Dopo essere stata revocata all'Aler Passerà a una società della metropolitana milanese La decisione sembra ormai certa E domani ci sarà una riunione a Palazzo Marino Tra i partiti di maggioranza Per dare il via libera all'operazione Ma intanto questa cosa avviene senza nessun tipo di confronto sindacale Né con le confederazioni né con i sindacati inquilini E questa cosa è una cosa sbagliata Noi abbiamo fatto alcuni incontri con il sindaco C'è che ci aveva promesso Come dire Di un resoconto su questo E di decidere Non dico insieme Ma di confrontarci su questa scelta Dopodiché noi abbiamo sempre detto Che la gestione delle case pubbliche Deve rimanere pubblica E deve essere unica Tramontata l'idea di creare una società mista Tra regione e comune Sarà direttamente Palazzo Marino Attraverso metropolitana milanese A riappropriarsi della gestione Delle case popolari Si tratta di 28.197 alloggi Rispetto agli oltre 41.000 del patrimonio Aler Nell'edilizia popolare sono residenti 200.000 persone Gli occupanti abusivi delle case comunali Sono quasi 1.200 E oltre 2.200 in quelle Aler Il tasso di morosità è intorno al 27,5% Una discussione tutta politica E' altrettanto vero che Aler Come dire Ha in grossissime difficoltà gestionali Non gestisce bene il patrimonio Nemmeno il suo E dovrebbe porsi anche questo problema Il comune di Milano E' anche vero che qualche mese fa E' stata fatta una riforma delle Aler Regionale del tutto inutile Votata da tutti Cambiamo argomento Ancora cronaca Sarà processato con rito abbreviato Paolo Bovi 40 anni Ex tastierista ed ex fonico dei Modà Arrestato lo scorso gennaio Per presunti abusi sessuali Commessi nel 2011 Su 4 ragazzini Di età compresa tra i 13 e i 16 anni Per lui la GP di Milano Luigi Gargiulo Ha disposto il processo con rito immediato Bovi ha chiesto di essere giudicato Con il rito alternativo La data deve essere ancora fissata Che prevede lo sconto di un terzo della pena In caso di condanna Bovi che è incensurato Frequentava da anni una parrocchia Dell'Interland milanese Ed era rimasto legato al luogo Assumendo nel tempo Il ruolo di educatore animatore Le 4 violenze sessuali Si sarebbero consumate però Non all'interno della struttura Ma in altri luoghi Come in un campeggio In Val d'Aosta Nel corso di una gita Adesso torniamo alla vicenda Dei bronzi di Riace Sapete da una parte Vittorio Sgarbi Che dice portiamoli A Milano da Reggio Calabria In occasione di Expo Dall'altra il premier Renzi Che proprio ieri ha detto Che non si deve fare Perché i bronzi Devono restare A Reggio Calabria Ma non solo i bronzi di Riace La vicenda La questione riguarda un po' Tutte le opere d'arte Devono essere spostate Oppure no Vediamo nel servizio Di Alberto Carrejas I votatori Devono più che mai Recarsi sul posto Difficile conciliare Posizioni opposte Probabilmente la patata bollente Per una decisione definitiva Passerà al ministero Tra le numerose opinioni C'è sicuramente quella Dell'assessore alla cultura Della città Che ospiterà L'esposizione universale Bisogna stare sempre molto attenti A quelle che sono Le esigenze di cautela Delle opere d'arte Relative alla loro fragilità E quindi alla loro trasportabilità Ma soprattutto Le opere d'arte si spostano Se c'è un motivo scientifico Di costruzione di un percorso Di approfondimento E di conoscenza All'interno del quale Queste opere Assumono un significato Noi come Comune di Milano Abbiamo appena concluso Un importantissimo lavoro Con il ministero Per realizzare a Palazzo Reale Una mostra su Giotto Si intitolerà Giotto l'Italia E sarà una delle mostre Più importanti e significative Sull'opera di questo Stradinario artista E grazie a questo lavoro Davvero intenso Di collaborazione tra istituzioni E approfondimento scientifico Porteremo a Milano Un'opera straordinaria Come il politico Stefaneschi Quindi secondo lei I bronzi di Riace Meglio che restino Dove sono? Ma senza un contesto E senza una costruzione Di senso e di significato Sì Soprattutto trattandosi Di opere appunto Così fragili E poi c'è un'altra cosa Noi non dobbiamo far viaggiare Le opere in questo momento In Italia Dobbiamo iniziare Ad abituarci a far viaggiare I viaggiatori I visitatori Verso le opere E fare in modo che da Milano Nasca una grande piattaforma Di conoscenza E di approfondimento Del nostro patrimonio artistico E quindi da Milano Poi venga il desiderio Di arrivare in Calabria Nel museo appena costruito Per i bronzi Ancora cronaca I carabinieri Della compagnia di Legnano Hanno arrestato In flagranza di reato Un uomo di 37 anni Per estorsione Ai danni Di un pensionato di 88 E del nipote di 20 Invalido con deficit mentali L'uomo da tempo Minacciava le vittime E con pesanti Pressioni psicologiche Si era fatto consegnare La liquidazione Dell'indennizzo Dell'invalidità Ed alcune mensilità Delle pensioni Per più di 3000 euro Fino all'ultima richiesta Quando il pensionato Ha informato I carabinieri Dell'appuntamento Con l'estorsore I militari Hanno quindi seguito La scena In una via Di cerro maggiore Dove poi l'uomo È stato arrestato Proprio mentre Ritirava il denaro Ora parliamo di Expo Perché la Cina Ha dato il via Ai lavori fuoriterra Nel suo padiglione Presso il sito espositivo Appunto di Expo 2015 E per l'esposizione universale A Milano Si attende Circa un milione Di visitatori Vediamo Con la tradizionale Danza del leone Accompagnata da tamburi Battenti Oggi sono stati inaugurati I lavori fuoriterra Del padiglione cinese Nel sito di Expo 2015 Una struttura da 4590 metri quadrati Quella del dragone Seconda solamente Alla Germania Per dimensioni Il prossimo anno A Milano Sono attesi Almeno un milione Di cinesi Che hanno già acquistato I biglietti Dai tour operator locali È la prima volta Che la Repubblica Decide di partecipare A un'esposizione Oltreoceano Oltre al padiglione nazionale Ce ne saranno anche Altri due cinesi Di imprenditori privati Dal 22 ottobre Partirà da Pechino Il road show di Expo Che toccherà Almeno otto metropoli Per provare Ad aumentare Gli investimenti Cinesi Per l'esposizione universale Che attualmente Raggiungono già quota 60 milioni di euro Sui visti C'è un continuo miglioramento Obiettivamente Se ne vendiamo di più Bisogna migliorare ancora di più E quindi aprire anche più Singoli punti Dove i visti Si possono ottenere Però è importantissimo Questo road show Che faremo Aropero intanto Prosegue la corsa Contro il tempo Per consegnare i padiglioni Per il momento È pronto l'80% Della piastra Mancano ormai Poco più di due settimane All'inizio della vendita pubblica Dei biglietti 22 euro Il prezzo medio 39 euro Quello massimo L'obiettivo dichiarato È riuscire a staccare In totale 24 milioni Di ticket D'ingresso E a proposito Di Expo Adesso parliamo Di un concorso Che premia L'innovazione creativa Dei giovani A servizio dell'arte Proprio in vista Di Expo 2015 Videomarks Che si rivolge Ai giovani under 30 E premierà I migliori progetti video Che attraverso Lo storytelling Sapranno invogliare Sempre più turisti E cittadini A vivere A conoscere Durante Expo 2015 Milano Come città metropolitana E città d'arte Tutto questo Attraverso La valorizzazione Delle sei opere Più rappresentative Del patrimonio Artistico milanese Si tratta Del quarto stato Di Pelizza da Volpedo Il bacio di Hayez Lo sposalizio Della vergine Di Raffaello La pietà rondannì Di Michelangelo Il concetto spaziale Di Lucio Fontana E l'ultima cena Di Leonardo da Vinci In palio Ci sono tre premi Da 3.000 euro l'uno Ovviamente Per i primi tre Classificati E adesso Occupiamoci Della vicenda Delle multe Relativa ai manifesti Abusivi Vi ricordate Durante la campagna Elettorale Del 2011 Sono multe pesanti Per un totale Di oltre 2 milioni Di euro Campagna Che è stata seguita Molto dal gruppo Dei radicali E una delle vittime Di queste multe È il sindaco Di Milano Pisapia Che ha detto Che sicuramente Pagherà la sua multa E comunque Stanno per arrivare Le ingiunzioni A tutti i politici Che avevano esposto I manifesti In modo irregolare Questa volta Sembra proprio Che i politici Milanesi Dovranno mettere Mano al portafoglio Il comune di Milano Ha inviato Le multe Per i manifesti Elettorali abusivi Relativi Alla campagna Elettorale Del 2011 Si tratta Di oltre 4.000 verbali Esattamente 4.022 Di ingiunzione Di pagamento Per le violazioni Delle regole Sulle affissioni Alcuni verbali Sono stati anche Inviati A Giuliano Pisapia Che uscì Vincitore Dalla sfida Elettorale Contro Letizia Moratti Pisapia Ha fatto sapere Che pagherà Quanto dovuto Tutte le ingiunzioni Sono state firmate Dal comandante Dei vigili Tullio Mastrangelo Che è anche Direttore centrale Per la sicurezza Tutti i soggetti Interessati Hanno a disposizione 30 giorni Per fare ricorso Presso il giudice Di pace Se la cifra È inferiore A 15.000 euro Altrimenti Al tribunale Per cifre superiori Nei prossimi giorni Si saprà l'importo Che ogni politico Dovrà versare Il comune Ha fatto sapere Che le violazioni Riguardano L'utilizzo Dei tabelloni Elettorali Nei giorni precedenti L'inizio Della competizione In pratica Si tratta Di manifesti Attaccati In anticipo Quando ancora Gli spazi Non erano stati Assegnati Complessivamente Le contravvenzioni Raggiungono I 2.200.000 euro In un primo tempo La cifra Era decisamente Maggiore E cioè 6 milioni di euro Poi però Il ricorso Portato avanti Da Edoardo Croci Ha avuto esito Positivo Poi dunque Per evitare Ulteriori ricorsi Da parte Di altri candidati La cifra È stata ridotta Tutte le precedenti Ordinanze Erano sempre State annullate E alla fine Sanatori E ricorsi vari Avevano evitato Ai politici Di pagare le multe Se non in modo Assolutamente simbolico Questa volta Invece Sembra proprio Che tutti coloro Che riceveranno La raccomandata Dovranno pagare Ovviamente Staremo a vedere Infatti Vediamo chi paga Davvero Chi lo dice Solamente C'è stato Un grave infortunio Sul lavoro A Muggio In provincia Di Monza Dove un operaio Ha riportato Gravi feriti Agli arti Dalle prime ricostruzioni L'uomo sarebbe Stato travolto Da una bobina Fuoriuscita Dalle guide Di un impianto Nell'azienda Di lavorazione Laminati In cui lavora Soccorso È stato trasportato All'ospedale San Gerardo Di Monza Sul posto Sono arrivati Ovviamente Subito I carabinieri Della compagnia Di Desio E ci sono Nuovi sviluppi Sulla vicenda Del sistema Sesto Infatti La Corte dei Conti Ha citato in giudizio L'ex assessore Pasqualino Di Leva E l'ex responsabile Dello sportello unico Per l'edilizia Nicoletta Sostaro Per un totale Di quasi 900 mila euro Vediamo Il sistema Sesto Dopo essere finito Nel mirino Della magistratura Ordinaria Ora è citato in giudizio Anche dalla Corte Dei Conti Pasqualino Di Leva Ex assessore All'edilizia privata Dell'ex Stalingrado D'Italia Secondo la magistratura Contabile Ha prodotto Un danno erariale Da 456 mila euro Citata per danni Alle casse Dello Stato Anche Nicoletta Sostaro Ex responsabile Dello sportello Unico Per l'edilizia Con una cifra Di poco superiore Ai 436 mila euro I due sono al centro Del sistema Di tangenti Che ha travolto Sesto San Giovanni Con l'inchiesta Coordinata Dalla procura Di Monza Nuovi guai Giudiziari Per Di Leva Che aveva patteggiato In sede penale Un anno e otto mesi Di reclusione E un'ammenda Da 100 mila euro Per più di un decennio I due sono stati Il cardine Del settore Dell'edilizia privata Creando un sistema Attraverso il quale Chi voleva ottenere L'approvazione Di progetti Non aveva altra scelta Che versare Tangenti Direttamente O attraverso Un sistema Di false fatturazioni Tra i progetti Finiti nel mirino Anche riqualificazioni Edilizie complesse Ed economicamente Rilevanti Come quella Per le aree Ex falc L'inchiesta Della magistratura Contabile È coordinata Dal procuratore Regionale Caruso E dal sostituto Procuratore Cerioni Con la collaborazione Della guardia Di finanza Di Milano Era l'ultimo servizio Prima di chiudervi Anticipo i programmi Della serata Questa sera Una variazione Intanto dopo il TGN La pubblicità Ci sono come al solito Le previsioni del tempo Poi prima parte Di Nova Stadio Sprint Con il nostro direttore Gianni Visnai E i suoi ospiti Poi come ogni giovedì Alle 20.30 C'è griglia di partenza In esterno Questa sera E alle 23 Appunto come vi dicevo Questa sera Alle 23 Ci sarà la seconda parte Di Nova Stadio Per commentare La partita Della nazionale A questo punto Non mi resta Che ringraziarvi E augurarvi Buona serata Arrivederci Buona serata